Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui continuo la mia serie sulle macchine di Actebox In questo video porterò la macchina Bounty Hunter che ha una vulnerabilità interessante, che è una XXE Quindi vedremo come esplodarle in questo caso particolare e quindi spero sarà divertente Se siete interessati a questi contenuti ovviamente iscrivetevi al canale e buona visione Quindi come al solito io mi sono connesso alla rete di Actebox e ho iniziato la macchina Bounty Hunter E l'ho messa nel file tchost e quindi adesso la posso pingare facendo ping Bounty Hunter E quindi lui me la pinga Quindi procediamo con i soliti scan, prima ci creiamo una cartella Qui, make dir Bounty Hunter, ok già ci sta Ci creiamo il file bountyhunterlog.org, come al solito Title htb Bounty Hunter, autor Leonardo Damiano E quindi procediamo con le numerazioni e in particolare con nmap, sempre come al solito Facciamo nmap scsv Bounty Hunter E poi un nmap su tutte le porte, sempre Bounty Hunter Nmap, qui P-P-Bounty Hunter, ok Quindi abbiamo questi due scan, vediamo il primo come procede Il primo è finito, come possiamo vedere abbiamo due porte La porta 22 che è una porta ssh e la porta 80 che è una porta h, quindi che è un web browser Cioè che è un server web, più che web browser Quindi Bounty Hunter Qui Bounty Hunter log lo devo salvare, lo devo salvare Quindi qua mi salvo all'output del comando 1 Ok, ok E qua invece mi salvo all'output del comando 2 che ci ha fatto pure l'altro scan, quello su tutte le porte E anche quest'altro scan ci ha dato solo due porte attive che sono la porta 22 e la porta 80 Perfetto E quindi ci siamo salvati tutte le informazioni sulle scan Allora come procediamo? Bene, dato che abbiamo un web server andiamolo a vedere con i nostri occhi Quindi sempre prima un'esplorazione abbastanza anche diciamo senza strumenti, cose particolari Semplicemente vediamo graficamente il sito Questo sembra un Bounty Hunters, Bounty Hunters Security Researcher Quindi sembra tipo una piattaforma in cui un Bounty Hunter può riportare qualche tipo di vulnerabilità Questo è il codice HTML, come vediamo sembra abbastanza tranquillo Niente di che, abbiamo del menu, delle sezioni, delle scritte, niente link a cose particolari Abbiamo i link agli asset, niente di che, non ci sono commenti, niente di particolare E nel menu qui avevamo praticamente about, contact e portal Ora portal ci porta ad un'altra, diciamo pagina Che sarebbe bounty hunter slash portal.php Quindi questo è il risultato di uno script PHP che però ci dice Guarda questo portale è sotto sviluppo, under development E poi ci manda un link per andare al to test the bounty tracker Quindi è una specie di testing del loro bounty tracker a questo log submit Ora se andiamo a questo log submit, vediamo questo form Bounty report system beta Se noi facciamo view page source abbiamo HTML con un form Questo form contiene essenzialmente una serie di input Che sono exploit title, la CWE, il CWSSS e la reward E poi nel, diciamo, quando noi premiamo viene eseguita la funzione bounty submit Quindi questo è il report E se poi noi andiamo a vedere qui nello script SRC Abbiamo due, diciamo, javascript che vengono allegati Uno è jQuery, che vabbè non ci interessa E l'altro è resources bounty log.js Questo sembra più relativo a questa particolare applicazione Mentre jQuery è più una, diciamo, un framework javascript O comunque una libreria javascript Quindi se andiamo in bounty log.js, che ci viene fuori? Ci viene fuori questa funzione, questa bounty submit Che ricordiamo era la funzione che viene eseguita Quando noi clicchiamo su questo form Cioè quando noi mettiamo tipo exploit title test Qui mettiamo do2 Qui mettiamo 21 E qui mettiamo 2000 dollari Così a cavolo E poi facciamo submit Lui ci ritorna questa scritta If db were ready would have added questo qui Cioè che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che se il database era in produzione Avrebbe aggiunto al database questo tipo di record In cui il titolo è test Il CWE è 20 Lo score è 21 E la reward è 2000 E quindi ci ha dato questa pagina di output Ora E qui la funzione che viene eseguita Quando noi premiamo il submit E questa qui È una funzione asincrona di javascript E quindi che vuol dire? Lui fa questo try E questo try che cosa si fa? Si prepara in questa variabile xml Del codice xml Che sarebbe questo Ok Questo codice lo crea Prendendo praticamente Tutti i campi del nostro form Tipo exploit title CWE Questa è sintassi Praticamente JQuery Se non sbaglio Ajax Una cosa del genere Comunque un modo per scrivere codice javascript Quindi tutte queste cose Non so bene come si leggono Ma l'idea è che Tipo con questo Secondo me stiamo Prendendo il campo html Con id exploit title Tipo questo E prendiamo però il valore Perché c'è questo punto vale Quindi prendiamo il valore Che noi mettiamo in questo particolare form Dopodiché Una volta che abbiamo creato Questa variabile html Noi che facciamo Facciamo let data E fa await return secret E questo praticamente Crea Questa tipo di funzione Return secret Fa una wait Quindi diciamo Aspetta che questa funzione termina E poi ritorniamo Il Diciamo I dati che ci vengono Ritornati da Da questa funzione E questa funzione È fondamentalmente Che fa Invia una post All'url Tracker Dirppproof Chiudo questa roba Anzi no Faccio close Start Quindi qua sto inizializzando Burp suite E poi attivo Chromium Chromium Proxy server 127 001 8080 Questo lo sto lanciando Con di menu in alto Quindi lo chiamo Chromium Con il proxy In modo tale Che le richieste Verranno passate A burp Qui rimuovo L'intercept Perché voglio Semplicemente In modo passivo Voglio prendere tutte le cose Vado su bounty hunter Vado quindi sul sito Adesso però Sono andato su questo sito Ma dato che ho messo il proxy Lui dovrebbe Ha preso la richiesta Infatti ha preso La richiesta della get Quindi se andiamo in portal E noi andiamo qui E poi qui facciamo Per esempio 1 1 Facciamo 1 2 3 e 4 Facciamo il submit Lui ci ritorna a questo E se noi andiamo a vedere In burp Che cosa succede Succede che Noi facciamo la get Alla log submit Dopodiché facciamo una post Quando noi abbiamo fatto il submit In questo form Lui che cosa ha fatto Ha fatto una post A questo particolare url Che sarebbe tracker Qui lo possiamo vedere meglio A questo tracker Ha fatto La posta a questo tracker E come data Ci ha messo Questo valore Che è un base64 encoded E se noi lo decodifichiamo Facendo Converse selection Base64 decode Otteniamo questo particolare XML Che se noi lo andiamo a vedere su Per esempio Imax Otteniamo questo particolare XML Qui possiamo fare tipo HTML mod HTML mod Otteniamo questo particolare XML Che in realtà sarebbe Più o meno anche quello Che possiamo vedere Dallo script Javascript Tipo questo Infatti era praticamente Questo qui Reward E bug report Ok Quindi reward Bug report Quindi qui Magari title Qui ci stava Uno Qui ci stava Due Invece In cwe E qui ci stava Quattro E quindi questo Praticamente era L'html Che E quindi questo Apparente È l'xml Che il nostro client Invia All'endpoint Dirb proof E tra l'altro si chiama Tracker Dirb proof Perché Perché se noi Utilizziamo un Dirbuster O anche un GoBuster Non riusciamo a vedere Questo file PHP Perché ha un nome Ma un nome particolare Ma se noi Semplicemente andiamo Ad analizzare il codice Lo possiamo vedere E infatti Questa è una nozione Abbastanza utile Della serie Prima di utilizzare Tipo Dirsearch O GoBuster È sempre utile Fare una overview Molto intuitiva Senza tool Automatici Eccetera Del sito Per vedere Se ci sono cose Del genere Se ci sono cose Che possiamo subito Notare Per esempio Endpoint E via dicendo E quindi questo È molto molto comodo Ora Che cosa possiamo fare Con questa conoscenza Cioè Qual è la conoscenza Che siamo riusciti a capire È che Questo sito web È in grado Di processare Questi file XML Per poi aggiungerli In un eventuale database Quando poi sarà pronto Bene Il fatto è proprio questo Il fatto è che Quando un server web Riceve in input Nelle richieste Che siano s post o get Ma tipicamente sono post Comunque riceve Del contenuto XML Potrebbe essere vulnerabile A La vulnerabilità chiamata XXE Che sta per Mi sembra External entities XXE Ok Ok Advanced Qui ovviamente Perché ho il proxy Devo fare Andiamo su Firefox Quindi XXXXE Che sta per questa External entity processing E fondamentalmente È Un modo In cui È il modo in cui Il server analizza Questo XML Cioè noi possiamo mettere In questo XML Delle particolari keyword In modo tale che Se l'engine Che decodifica Questo XML Lo interpreta È scritta male Ed è vulnerabile Potremmo Ad esempio Importare il contenuto Di particolari file Che vengono chiamate Proprio Entità esterne External entity E quindi Andiamo proprio A exploitare Questa XXE Perché Perché questo server web È vulnerabile A questo tipo di exploitation Quindi Arrivati a questo punto Noi sappiamo che cosa Che noi Il nostro client Invia al web server Questo XML Il web server Lo interpreta E ci sputa fuori Praticamente Questo tipo di risposta Cioè che lui Ci dice Guarda che se Il nostro servizio Sarebbe in produzione Allora avremmo aggiunto Nella Diciamo Nel database Questi campi Ed è importante Che il web server Ci mostra Il risultato Ottenuto dal processamento Di questo XML Perché Perché noi cerchiamo Proprio di sfruttare Questa cosa Come Facendo proprio Quell'attacco Che ho cominciato prima Che si chiama XXe E sta per External Entity Processing Tipo Una cosa del genere Ma non so se si chiama Esattamente così Però qual è l'idea L'idea è che Se l'interprete Di questo XML Cioè il processo Che legge L'interprete Da questo XML È vulnerabile Noi qui possiamo Definire delle entità Esterne Per esempio Un file E possiamo embeddare Includere il contenuto Di quel file All'interno di questo XML In che modo Come si fa Bene Un modo per procedere Sarebbe questo Definiamo questo Doctype Replace E poi facciamo Qui tutti questi caratteri Entity Ent System File Tre cose Tre cose E poi faccio Etc Passwd Questo è un payload Per capire se è vulnerabile A questo particolare Tipo di XXe Quindi esattamente In questo modo Dopodiché Come procediamo Noi prendiamo Tutto questo XML Lo andiamo a fare Base64 Encoding Quindi qua abbiamo Base64 Encoding Io ce l'ho Questo è il Base64 Encoding E poi questo Andiamo a fare L'URL Encoding Quest'ultimo post È per sicurezza Non è proprio necessario Ma è per essere proprio sicuri Dopodiché Lo mettiamo in data E facciamo send Notiamo che a questo punto Lui che ci ha dato Ci ha dato 1,2,3 e 4 Così Perché così Non ci interessa questo Ah giusto Perché Perché in questo modo Noi che cosa abbiamo definito Abbiamo definito Questa entità esterna Chiamata ent Che fa riferimento Al file TC Pass4D Ma non l'abbiamo mai visualizzata Cioè non abbiamo fatto mai Riferimento a questa entità E quindi lui Nella risposta Alla fine che ci è ritornato Niente Ci è ritornato Come titolo 1 Come cv2,3,4 Per fare riferimento A questa entità E dunque per visualizzarla Ovvero per visualizzare Il contenuto del file Se il sistema è vulnerabile A questo attacco Possiamo fare in questo modo Facciamo End Questo qui End Punto e virgola Adesso quando lui proverà A risolvere Questo valore Farà riferimento A questa entità Al file TC Pass4D E se è vulnerabile Ci farà vedere Il file TC Pass4D Quindi prendiamo Tutto questo payload Lo mettiamo B64 Qui Facciamo l'encoding Prendiamo questo E facciamo sempre l'encoding Con url Ripeto Non è necessario Ma per essere sicuri Non so se Questo lo farà bene Automatico Prendiamo questo Lo mettiamo qui su data Incolliamo E notiamo che cosa abbiamo qui Abbiamo fondamentalmente Il Il contenuto Del file Etc Pass4D E quindi Qual è Qui che cosa ci segniamo Nel file Ci segniamo fondamentalmente Tipo apriamo qui Log Facciamo Bounty Hunter E poi qua scriviamo Enumeration E poi facciamo XXE Payload E poi fai File Etc Pass4D Il file Etc Pass4D Può essere letto Con questo particolare Payload E il contenuto Del file Il contenuto Del file Etc Pass4D Invece Il seguente Che fondamentalmente È questo Che ci ha riportato Burpsuite Qui Quindi possiamo copiarlo E possiamo incollarlo Qui Comunque Questo che cosa ci permette Di capire Ci permette di capire Che possiamo leggere Dei file Adesso Quale sarà l'idea L'idea sarà quella Di leggere Dei particolari file Per estrarre Delle particolari informazioni Dal sistema Fondamentalmente E quindi adesso Abbiamo capito Che possiamo leggere I file Con questa XXE Per riuscire ad attaccare Questo sistema Quindi adesso Ci dobbiamo chiedere Ok ma quali sono Dei file Potenzialmente Critici Che possiamo leggere E per fare questo Dobbiamo fare Una enumerazione Con un tool Tipo Gobaster Quindi noi abbiamo Gobaster E possiamo utilizzare La modalità Gobaster Dir Per fare Lo scan Delle risorse Delle cartelle Facciamo Gobaster Dir Facciamo Per dire Lost Name Che in questo caso È HTTP Poi facciamo Trattino V per dire La word list A utilizzare Che utilizzeremo Quella Dei Dir Buster Directory Diciamo Directory List Medium Anzi Directory List 2.3 Medium Poi facciamo Trattino T per mettere Di threads Ne voglio Tipo Vabbè Facciamo 100 100 threads Poi Trattino X per dire Le estensioni In questo caso Sarebbe L'estensione PHP Perché abbiamo Già visto Un file PHP E comunque I file Critici Sono anche I file PHP Ma possiamo Fare PHP E TXT Ad esempio E basta Così Se noi lo lanciamo Notiamo Una serie Di file PHP Tra cui Tipo In realtà Dei file Che poi ci interessano Noi Questo ovviamente Lo possiamo Far continuare A lavorare Questo comando Ma dei file Che ci interessano Quali sono già Abbiamo il portal .php Che abbiamo Già visto E poi però C'è questo file Interessante DB.php Che Quindi questo Lo possiamo Terminare Poi ovviamente Uno potrebbe Continuare a lanciarlo Fino alla fine Ma in realtà La chiave Per andare avanti Sarà in questo DB.php Perché Ora questo Noi copiamocelo Qui comunque Cobuster Cobuster E copiamoci Questo tipo di output Ovviamente Lo ricopio Questo tipo di output Fondamentalmente Perfetto Perché la chiave È quel file DB.php Notiamo che Nell'output Di cobuster Quel file Era apparso Sì Ma era apparso Con che size Zero Dimensione zero Perché Perché se noi Abbiamo nel nostro Bounty Hunter E facciamo DB.php Ci dà un file Vuoto Perché ci dà un file Vuoto Ci dà un file vuoto Perché Ricordiamo brevemente Come avviene La generazione Del file PHP Cioè come funziona Fondamentalmente Che cosa succede Succede che Noi siamo il nostro Client Qui il nostro Client E qua ci sta L'internet E qua ci sta Il server Quando noi facciamo La richiesta Per esempio Voglio che ne so DB.php Il server in realtà Ha varie sezioni Ha un web server Quindi un web server Che ne so Tipo Apache Non so Non mi ricordo in questo Particolare cosa Se era Apache O Nginx Comunque che ne so Tipo Apache 2 Per esempio Tipo il web server Dice ok ho questa richiesta Dato che però Questa è una richiesta PHP Questo web server Utilizza a sua volta Una engine Una PHP engine Per fare che cosa? Per generare L'output Diciamo Output HTML L'output HTML A partire da questo PHP In questo caso Noi vediamo La pagina vuota Quando andiamo In db.php Perché? Perché l'output Di questo HTML È vuoto Questo vuol dire Che questo file Db.php Nel server Potrebbe contenere Solamente codici PHP Tipo codice Tra le tag PHP Poi magari qua ci sta roba E qua ci sta cosa Se questo file Contiene solo codici PHP Quando la PHP engine Lo esegue Non stampa nulla Di HTML E quindi La pagina che ritorna All'utente È una pagina vuota Ma il fatto che Noi vediamo Una pagina vuota Vuota Non vuol dire Che la pagina è vuota Anche nel server Potrebbe essere piena Di contenuto Ma è soltanto Che è un contenuto Diciamo Di PHP E quindi Noi non lo possiamo vedere Detto questo Quindi ora devo Sistemare un attimo qui Detto questo Comunque Anche se noi Non lo vediamo Possiamo leggerlo Possiamo leggerlo In un altro modo Cioè L'idea sarà Quello di utilizzare Questa XXE Che abbiamo trovato Per leggere il file Senza però farlo eseguire Dall engine PHP E come faccio a fare Questa cosa? Beh L'idea è quella Di utilizzare Il seguente payload Prima abbiamo utilizzato Questa external entity System file Adesso dobbiamo fare Sempre end Ma l'external entity Sarà chiamata in questo modo Sarà chiamata PHP Filter Convert Base64 Encode Resource Uguale E poi qui mettiamo Il file Che vogliamo essenzialmente Convertire in Base64 E il file sarà Var VVV HTML Perché questa tipicamente È Il root folder Dei server Tipo il server Che non so Il server di Bounty Hunter Era un server Era un server Apache E tipicamente I server Apache Hanno questa Come root Diciamo directory E il file Che vogliamo Convertire È db.php Notiamo che tramite Questo tipo di procedura Noi siamo in grado Di convertire Il contenuto Del file In Base64 In modo tale Che la PHP Engine Non lo va ad eseguire E quindi Una volta che noi facciamo Questo end Quindi noi prendiamo Questo payload Che sarà il nostro payload Vediamo se funziona Lo mettiamo qui Facciamo Anzi prima Lo dobbiamo fare In Base64 Quindi facciamo qui Lo facciamo in Base64 Abbiamo questo Poi lo mettiamo qui Nell'url encoder Che ripeto Non è proprio necessario Ma Giusto per essere sicuri Lo passiamo A burp Sempre nella richiesta A questo Dirp proof tracker Lo inviamo E notiamo lui Nella risposta Che ci dà Questo è praticamente Tutto l'HTML Della risposta Lo metto qui In questo L'HTML Della risposta C'è questo contenuto Ok Questo contenuto È in base64 E se noi lo andiamo A decodificare Questa volta Quindi faccio qui Vado qui Però questa volta Devo fare decode Quindi devo fare Non Base64 encode Ma Base64 decode Lo devo decodificare Quindi vado qui Decodo Faccio ok Vabbè agree Notiamo che ci dà Ci dà del codice PHP Questo è del codice PHP E come ho detto prima Questo è del codice PHP E in questa pagina C'è solo questo codice Quindi quando la PHP Lo eseguiva Non stampava nulla Di HTML E quindi noi Vediamo questa pagina vuota Ma invece Nel file Vero e proprio nel server Quello prima ancora Di eseguire il codice PHP C'è questo contenuto E notiamo nel contenuto Che ci sta Ci sta un server Un nome Un username E una password E un test user E quindi questo Questo è super utile Perché? Perché questa password Ci potrebbe ovviamente Servire E infatti ci serve Proprio per entrare nella macchina Quindi salviamoci Queste informazioni Nel nostro log Quindi abbiamo XXPayload E poi abbiamo File Var VVV HTML DB.php Abbiamo questo Il contenuto del file Quindi lo faccio come Example E invece il payload Utilizzato Per leggere questo contenuto È fondamentalmente Questo Che abbiamo utilizzato Il Diciamo Il filter E il converter Di PHP Ok Quindi il file Una volta decodificato È il seguente Quindi abbiamo delle credenziali Abbiamo una password Fondamentalmente Ora Se noi andiamo a rivedere Diciamo L'etc passfud Notiamo una cosa Che nella cartella Slash home Slash home Abbiamo Syslog E poi abbiamo Un altro utente Quindi abbiamo Syslog Sicuramente E poi abbiamo Development Quindi proviamo A utilizzare questa password Per entrambi gli account Perché sono Diciamo gli account utenti Quindi facciamo E come utilizziamo Questa password Beh Dato che nell'nmap iniziale Avevamo visto Un server SSH Proviamo ad utilizzare SSH Cioè facciamo SSH Syslog At Bounty Hunter Con la password Che abbiamo preso Da questo DB.php Con questa Particolare password Quindi facciamo così Mettiamo la password E ci risponde Quindi questa non funziona Per questo particolare account Se invece proviamo Quell'account Development Quindi abbiamo SSH Development Bounty Hunter Stessa password Di prima Che è questa qui Con la stessa password Di prima Questa volta ha funzionato Quindi siamo dentro Siamo development Abbiamo accesso Alla user flag Che è questo user.txt E quindi siamo dentro E quindi questo Ce lo segniamo Come? Ce lo segniamo Nel senso che Noi se andiamo a fare Privilege escalation Privilege escalation Abbiamo Credentials For Admin At bounty hunter E qui abbiamo Abbiamo le credenziali Ok Ok questo utente Può utilizzare I seguenti comandi Bene abbiamo un comando Che possiamo utilizzare Da root Sembra molto molto Promettente E quindi faccio Qui faccio Praticamente development At bounty hunter Anzi qua ci metto Tutti i comandi Che poi eseguirò Da development Fondamentalmente Tra cui questo Questo su 2L Quindi faccio Questa roba Fondamentalmente Ok Su 2L Questa cosa Ok E qua ci metto Le credenziali Come prima Entry Ok Dopodiché Quindi abbiamo Questo su 2L Lui ci dice Che l'utente Può eseguire Come root Senza password USR bin Python 8 Ok Può eseguire Questo particolare script Cioè noi possiamo eseguire Questo particolare script Come root Se noi lo andiamo a vedere Quindi andiamo nella cartella E vediamo questo file Ticket validator Cut ticket validator Ok abbiamo un po' di codice Ticket validator Lo andiamo a copiare Questo è codice python Questo proprio Me lo salvo Sul mio sistema locale Come fondamentalmente Ticket validator Punto py Ok Ora notiamo Che cosa fa Questo particolare ticket Abbiamo La funzione load file La funzione evaluate E la funzione main E lo script Chiama subito La funzione main Quindi quando noi Chiamiamo lo script Come root Perché noi lo possiamo fare No? Perché nel su 2L C'è scritto Guarda che io posso Chiamare questa cosa Come root Quindi noi Immaginiamo sempre Di Prima di tutto Eseguiamolo Giusto per capire Quindi noi possiamo fare Sudo Trattino root Ticket Ticket Valid Anzi dobbiamo fare Diciamo Sudo USR bin Python 8 T Facciamo Slash opt Skytraining Ticket Validator Lui ci dà la password Noi questa password Ce l'avevo qui Fondamentalmente che è questa Ci chiede la password Io metto la password Ehm Pa 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 Ass root Perché no? Su 2L Qual è la cosa? USR bin Ah ok Ora perché non ci ha funzionato Il comando? Perché ci ho detto Guarda che tu non puoi eseguire USR bin USR Ora perché non ha funzionato Questa cosa? Bene Notiamo Che noi abbiamo eseguito Il comando USR bin Python 3 Invece nel sudo L C'è scritto USR bin Python 3.8 Quindi dobbiamo fare 3 Quindi non ci basta fare USR bin Python 3 Ma 3.8 Quindi noi facciamo 3.8 Lui ci dice Please enter the path To the ticket file Tipo noi facciamo Invalid Tickets Oddio Invalid Tickets Ok Se io metto un file Che non esiste Wrong type file Ok Quindi lui Essenzialmente Andiamo adesso A analizzare un po' Melle il codice Per capire che fa Quindi lui fa Input Please enter the path Lui ci chiede una path E poi fa Load file Col file name Che gli diamo Ora La funzione Load file È diciamo Definita qui E che controlla Controlla Se il file Che gli abbiamo dato Termina con md Lui fa una open E lo legge in read mode Altrimenti fa Wrong file type Quindi lui vuole Un file che finisce con md E questa è un'informazione utile Dopodiché nel codice Lui fa Result Uguale Evaluate E poi fa If result Valid ticket Else Invalid ticket E poi fa il ticket Close del file Perché ticket a questo punto È un file Ricordiamo Ticket è proprio La riterna dell'open Quindi è apparente Un file descriptor Se vogliamo Ora Nella funzione evaluate Quindi sarà Evaluate di ticket Sarà quella più importante Ora la funzione evaluate Che cosa fa Lui fa Codeline Uguale non Lui E prende e numera Le righe di questo ticket Perché fa Un for Enumerate ticket Readlines Dice Se nella riga 0 Il file non inizia con Skytraining Allora è ritorna falso E poi continua E poi dice Se nella riga 1 Il file non inizia con Ticket 2 Allora è ritorna falso E poi fa un print Destination Ok Continuo Dopodiché Dopodiché fa Questo tipo di controlli E alla fine Notiamo cosa Qual è qui La vulnerabilità Che dobbiamo attaccare Perché Perché noi vogliamo Attaccare questa cosa Noi vogliamo capire Come funziona In modo tale Da avere un'esecuzione Di codice Quindi di tutto Questo codice Che legge i file Non è vulnerabile Questo codice Che fa questi controllini Non è vulnerabile Ma c'è una cosa Che deve subito Diciamo Mettere in allarme Ed è questa Eval Fondamentalmente Questa Eval È vulnerabile Noi dobbiamo trovare Un modo Per andare ad eseguire Questa Eval E per mettere Qui dentro Un Il codice Per esempio Di una reverse shell E quindi adesso Il nostro compito Sarà quello Di capire Come funziona Questo ticket Questo codice E fare Praticamente Reverse engineering Per capire Come mettere Dentro questa Eval Ciò che vogliamo noi Che sarebbe il codice Di una reverse shell Quindi per fare Questo tipo di Reverse engineering Io avrò Qui a destra Il ticket Che voglio creare Che conterà Il payload malevolo Se vogliamo Cioè quello che mi permetterà Effettivamente Di eseguire il codice Io adesso Lo testerò Nella mia macchina locale Quindi ho proprio Lo script Ticket validator Io lo posso Per esempio Se io creo questo file E ci metto Tipo una scritta random Così Notiamo che è un file Chiamato test.md Io chiamo Python 3 Ticket validator Please enter the path Metto test.pmd E lui fa invalidate ticket Quindi il codice Esegue Lui ovviamente Mi ha detto invalidate ticket Perché il risultato Di evaluate L'è ritornato falso Ora Notiamo che Perché l'è ritornato falso In questo caso Beh dato che La prima riga del file Non iniziava Con questa particolare stringa L'è ritornato falso Se invece La faccio iniziare Con questa particolare stringa Lui Diciamo È come se fa Un controllo in più Mi ritornerà Comunque falso Perché non è Tutto completato Anzi io che posso fare Dato che ho il codice Io posso mettere qui Delle condizioni Della serie Per esempio posso dire Qui Prova Tipo Sono Arrivato qui In modo tale da Cercare di capire Quali di queste condizioni Anzi facciamo così Falso 1 Falso 2 Prima di ogni return falso Io metto delle condizioni Così che capisco Quando L'evaluzione Del ticket Fallisce Falso 3 E falso 4 Cioè per ogni condizione Per ogni Prima di ritornare False Io controllo Fondamentalmente Perché mi ha ritornato False In quale particolare Path si trovava E falso 5 Quindi adesso io Rinvio il coso Scrivo Test md Notiamo che mi ha dato Falso 5 Cioè perché mi ha ritornato Prenente qui alla fine Vuol dire che lui Ha fatto tutti questi controlli Non ha mai ritornato Falso all'interno Ma poi è finito Da questo for E gli ha ritornato False Invece io volevo Questo return true In realtà io volevo andare In questa particolare Path In questa execution path Ora Per esempio Se noi Se la prima riga Perché in realtà Abbiamo 0 righe Ma se la prima riga Non inizia con questo Ticket 2 Lui ci ritornebbe Falso comunque Perché se tipo Qua ho tante righe Io salvo questo file Eseguo lo script E lui mi ritorna Per esempio Test.md E lui mi ritorna Falso 2 Perché? Perché la prima riga Cioè la prima riga Diciamo Deve iniziare con Skytrain Ma la seconda riga Deve iniziare con Ticket 2 E lo devo proprio copiare letteralmente Ok Adesso Non mi dovrebbe più dare Gli errori di prima Mi dovrebbe dare un altro errore Vediamo un po' Test.md Adesso fa falso 5 Perché? Per cui l'ha stampato fondamentalmente Destination Quindi Destination Ticket 2 Print Falso 2 Destination X.stript Ticket 2 E qua magari ci posso mettere Che so Tipo Leonardo Perché lui che cosa fa? Lui prende praticamente If x starts with Prende x Fa lo strip Fa lo split Rispetto agli spazi E poi prende dal terzo elemento in poi Quindi avrebbe una lista In cui il primo elemento è Ticket Il secondo è tu E poi ci sta Leonardo in poi E prendendo dal terzo in poi Lui fondamentalmente Prende tutto quello che viene dopo Diciamo Tu Tutte le scritte che metto dopo tu Quindi adesso se io lo rieseguo Lui mi dovrebbe stampare Destination tipo Leonardo Tipo test.md E lui fa infatti Destination Leonardo Vabbè ma noi che ci interessa molto Era giusto per capire il funzionamento Dopodiché continuando Adesso siamo passati Quindi alle prime due righe Le abbiamo gestite Dopodiché noi vogliamo entrare In questo tipo di cosa Ora in questa cosa Lui che cosa fa? Allora il codeline Inizialmente è definita come none Dopodiché da questo momento in poi Poi if x starts with ticket code Lui fa codeline uguale a più 1 Cioè che vuol dire che Quando i è 0 Lui mi fa questo Poi i diventa 1 Poi mi fa questo E poi fa il continuo Alla prossima iterazione i sarà 2 Quindi lui si chiede Se x starts with ticket code Cioè se la prossima riga Io la inizio con ticket code A questo punto io nell'esecuzione Che cosa ho? Ok codeline Dato che i era 2 Diventerà 3 Dopodiché lui fa Se codeline And i uguale uguale codeline Quindi questo sarà vero E poi lui fa il continuo La prossima volta I sarà diventato Fondamentalmente 3 E codeline è 3 Quindi la prossima volta Lui mi va a eseguire questo Quindi lui mi va a eseguire questo E poi facciamo If not x starts with Questo lui diventa falso Quindi se lui non parte Con queste due cose Lui mi stampa falso Cioè se io adesso Per esempio Qua ci metto un'altra roba Lui dovrebbe entrare In questo execution path E mi dovrebbe stampare falso 3 Vediamo se è vero Test md Infatti mi stampa falso 3 Perché? Perché noi abbiamo fatto La prima riga L'abbiamo gestita La seconda riga L'abbiamo gestita Dopodiché lui esegue questo Alla prossima iterazione Lui entra dentro questo if Perché è vero Entra dentro questo if Perché è vero Perché la quarta riga Non inizia con Asterisco asterisco E quindi lui ritorna false Quindi per non entrare qui Io devo mettere qui Asterisco asterisco A questo punto Lui non entra in questo if Lui che cosa fa? Fa il ticket code Perfetto Lui fa x replace E poi fa uno split E poi fa If int Ticket code Fa il modulo 7 E quello uguale a 4 Ok questo è interessante Perché fondamentalmente Io qua devo mettere un numero Io devo mettere un numero E Questo numero Come ho ottenuto? Lui fa il replace Della riga Quindi io sto Io sto in questa riga Diciamo con questa roba Quindi lui rimpiazza prima Questi due asterisco Con nulla E poi fa lo split Di più E prende lo 0 Quindi è come se io avessi Devo mettere qui un numero E devo mettere un numero Però che quando viene interpretato Come un numero Modulo 7 Fa un resto di 4 Quindi potrei metterci tipo 4 più Se io ci metto 4 più Dovrebbe funzionare Cioè mi dovrebbe andare Dentro questo particolare If E quindi qua posso dire Tipo dire Sto dentro l'if Per capire se ho capito bene L'execution path Quindi qua salvo Qui chiamo lo script python Faccio test md E poi fa invalid syntax Perché? Perché nella iva La quanto pare Si esegue qualcos'altro Bene Questo è molto interessante Però lui mi ha stampato Sto dentro l'if Quindi con 4 più Io qua effettivamente Entro dentro questo if Perfetto A questo punto abbiamo Il validation number E il validation number Viene calcolato Rispetto a questa iva Cioè abbiamo Ival X replace Ah lui fa l'iva Di tutta la riga Cioè lui fa l'iva Di tutto questo Quindi 4 più Tipo Lui fa l'iva Di tutto questo In cui però rimpiazza Questi asterischi iniziali Con il nulla Quindi se io faccio 4 più 5 Lui che cosa fa? Prende questa riga Toglie gli asterischi Quindi apprende Alla fine avrebbe 4 più 5 E fa l'iva Di 4 più 5 Ora l'iva Di un qualcosa È come se eseguisse Del codice python Esegue quella particolare Espressione python Quindi farebbe l'iva Di 4 più 5 Che fa 9 Quindi a questo punto Il validation number Sarebbe 9 E dato che 9 Non è maggiore di 100 Ci dovrebbe ritornare Questo false 4 Quindi proviamo Proviamo nuovamente Se Ci ha azzeccato Ci ritorna il false 4 E non ci dà più errore Come prima Se però qua mettiamo Per esempio 100 Lui farebbe l'iva Di 4 più 100 Che fa 104 Dato che 104 È maggiore di 100 Ci dovrebbe ritornare true Quindi in questo modo Lui dovrebbe Diciamo Ci dovrebbe Confermare il ticket Test md Valida ticket Però ovviamente Noi non vogliamo Validare il ticket E basta Vogliamo eseguire Del codice malevolo Come root E quindi Come possiamo fare Ad eseguire Del codice malevolo Come root Bene Bene L'idea fondamentalmente È di mettere qui Facciamo che ne so 4 più 100 Ma piuttosto che questo 100 Ci mettiamo del codice In line python E ci mettiamo questo particolare codice Underscore Underscore Anzi il codice Prima lo scrivo Qui E anzi Prima lo scrivo Qui E poi lo scriverò dentro Che così magari si capisce meglio Il codice che andremo a scrivere Python sarà Underscore Underscore Import Underscore Underscore Poi ci sta Parentesi os E poi ci sta System E dentro questa system Metto la tipica O il tipico contenuto Di una reverse shell In bash Se vogliamo Che sarebbe questo Payload Questo netcat Che Prendi io faccio Un comando system Metto questo payload Ovviamente qua ci devo mettere Il mio indirizzo IP Ci potrei mettere Giusto per esempio Di questa prova locale 127001 Ok Quindi questo ovviamente Funzionerebbe solo in locale Qui mi metto in ascolto Anzi Togliamo quello che sto Facendo qui Quindi abbiamo Questa c'è l'aperta Questa c'è l'aperta E questa c'è l'aperta Quindi la quinta La possiamo togliere Ok Quindi qua lanciamo Lo script In questa altra shell Mi metterò in ascolto Localmente Soltanto per vedere Se questo codice funziona Quindi noi mettiamo 4 più altro codice Python Qui lui ci potrebbe dare Delle errori Perché magari dice 4 più roba alterna Ma l'importante è che Esegue Entrambe le espressioni Se vogliamo Così che gli facciamo Eseguire questa reverse shell Quindi proviamo adesso Questo codice Io mi sono messo in ascolto Sulla shell 3 Qui accanto Quindi questa In basso a destra La sto in ascolto Qui adesso io chiamerò Python 3 Ticket validator E poi faccio Test.md Notiamo che qui Ho eseguito del codice Evil E quindi qui sto UMI Sto dentro la mia cosa Quindi il payload Fondamentalmente È questo Se noi mettiamo Questo payload Ovviamente qui ci devo mettere L'indirizzo IP Rispetto alla rete di activebox Quindi io qua che devo mettere I PA Abbiamo I PA I PA è 10101433 Quindi qua sarebbe 10101433 La porta è sempre 421 Quindi adesso mi metterò in ascolto Però rispetto alla Cosa remota Anzi prima devo inviare Questo payload Nella macchina remota Quindi che cosa faccio? Faccio semplicemente Io sto qui Posso fare un NC E poi faccio Test.md Che sarebbe il payload remoto Quindi questo E poi dalla macchina Con cui ero connesso Diciamo in remoto Qui vado in TMP E fondamentalmente Qui faccio un NCAT 10101433 4321 E poi faccio un Test.md Questa c'è la connessione Adesso mi sono scaricato Il file E questo qui Test.md Che contiene praticamente Tutto quanto Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo fare semplicemente Quello che ci diceva di fare Il sudo l Che ricordiamo La password un attimo Di questo utente Che era questa Quindi faccio sudo l Metto la password Ok non mi serve la password Metto questo comando Che è il comando Che posso usare da Diciamo da root Quindi faccio sudo Questo comando Dopo che faccio Enter path to the file Serve tmptest.md E se l'ho fatto correttamente La shell Su qui era in ascolto Che era mi sembra da 3 Era questa Lvnp 4321 Io faccio questa E notiamo che adesso Una shell Una shell da root Vado in root E posso fondamentalmente Vedere la root flag Quindi adesso farò Una breve ricapitazione Di questa macchina Quindi noi abbiamo fatto Una macchina ActiveX Che si chiama Bounty Hunter E gli step per eseguire Questa macchina Sono stati Vabbè uno con i soliti Mappe e nemappe Abbiamo visto che c'era Un web server aperto Dopodiché Esplorando manualmente Abbiamo visto praticamente Abbiamo esplorato Questa xxe Che consiste Nell'utilizzare Un xml Non sanificato Quindi xml Quindi possiamo dire Interprete xml Non sicuro Che ci ha permesso Di avere una Praticamente una Remote file inclusion Remote file inclusion Abbiamo utilizzato Questa remote file inclusion Per leggere Lettura Lettura file Lettura file Slash var Slash VVV Slash db Db.php Da questo Abbiamo avuto Le credenziali Abbiamo preso Le credenziali Per entrare Nella macchina remota Quindi qua Siamo entrati Nella macchina remota E con su 2 l Abbiamo visto Che potiamo eseguire Un comando python E qui abbiamo fatto Exploitation Manuale Del ticket validator Perché il Tipo si chiamava Ticket validator Perché il ticket validator Era uno script python Abbiamo analizzato Il codice Abbiamo visto Fondamentalmente Che questo codice Non faceva altro Che fare Delli controlli E poi a un certo punto Però Diciamo Andava ad eseguire Un'eval E noi abbiamo sfruttato Quest'eval Qua mi si è bloccato tutto Devo capire perché Comunque poi abbiamo sfruttato Quest'eval E questo codice Era vulnerabile Per via di un'eval E quest'eval Poi ci ha permesso Di ottenere il root E questo Ha terminato la macchina Quindi qui Diciamo le cose Di sapere di questa macchina Questo è molto storto Questo cosa Sono La xxe E questo Ogni volta che abbiamo Un server Che gestisce xml Dobbiamo sempre Pensare a una potenziale Xxe Poi vabbè Sempre su 2L Quando abbiamo i file Qui per leggere Questo file Abbiamo usato La convert Di php In base 64 Molto utile Per poter leggere Il file senza andare Ad eseguire il codice php E infine abbiamo fatto Semplicemente lettura A codice python Quindi qua Una conoscenza In generale di python Per andare a Explodare manualmente Questo e ottenere la ruta Quindi spero che il video Sia stato interessante E al prossimo video